di merito per essere giudicato dal Vescovo. E poi c'è quella corrispondenza con il proponsole d'Asia Annullinus, in virtù della quale questo personaggio, che pochi anni prima era stato un persecutore dei cristiani, perché così voleva la politica della prima età sua, Annullinus diventa un protettore delle chiese cristiane perché trasmette i denari dell'imperatore Costantino a sostegno delle chiese. Tutti questi favori che cosa hanno comportato la chiesa? Ecco, se io fossi un giudice direi la mia, mi permetterei di farlo, ma siccome il giudice non sono, ne voglio esserlo, sono un modesto lettore di testi storici, vi dico soltanto che a volte i figli, quando noi iniziamo, si può dire, li coccoliamo un po' troppo, c'è il rischio che vedi un po' la cosa. Ecco perché alcune persone dicono che dopo Costantino la secolarizzazione della chiesa ha portato a una sorta di decadenza dell'altra attenzione morale che aveva caratterizzato i primi tre secoli e per reazione a questa decadenza i vespoli che diventano uomini di potere, fiorisce in questo quarto secolo il fenomeno dell'ascensimo assoluto. Laddove non era più possibile al cristiano che voleva perfezionarsi unirsi a Cristo attraverso il martirio, si propone adesso una morte al mondo, una morte al secolo e quindi nascono questi anagoreni che sono bizzarri fino a quando alcuni grandi operatori come Basilio di Cesarea o Pacomio organizzano il monaglismo avviandolo a quella struttura organizzata che voi pensate. Ma c'è anche un altro fenomeno che caratterizza il quarto secolo in generale e il concilio di licea in particolare, un fenomeno che possiamo racchiudere in una sola parola apparentemente difficile ma che è facilissimo da spiegare e questa parola è ellenizzazione. Il grande storico Adolf von Arnach, Fone del titolo nobiliare che gli vedono e se lo meritava tutto, l'italiano direbbe un barone, perché aveva creato la grande accademia di Prussia pubblicando un'infinità di testi di cristianesimo antico e lui aveva riassumere la storia del cristianesimo antico nella formula di ellenizzazione della fede. Che cosa voleva dire Adolf von Arnach? Voleva dire una parola, un concetto molto semplice. Allora, fate questo esperimento. Molti di voi, o sicuramente alcuni, frequenteranno le riunioni di culto della messa per la domenica mattina e c'è un momento nel quale siete invitati a pronunciare il credo, credo, il mio padre, il mio potente, così, così, così. Questo è il credo miceno-postantinopolitano, cioè è stato messo per iscritto dal combinato disposto dei pubblico e concili, i comunici. Miceno 325, Costantinopoli 381. E poi a un certo punto del vostro recitare vi imbattete in parole come una sostanza, tre persone, ipostasi. Questi termini che oggi sembrano misteriosi, specialmente alle generazioni giovanissime, in realtà erano i vocaboli con i quali si comunicava la cultura dell'epoca. I vocaboli della cultura tukur, che era la filosofia greca, quindi la grande sfida dei proclamatori di Cristo, sin dalle pagine del Nuovo Testamento, fu quella di tradurre il messaggio pronunciato da Gesù presso i raghi e le colline della Carighetta, in lingua aramaica, quel semplice Matteo capitolo 5 che contiene le piattitudini, tradurre questo messaggio, direi paludato con gli orpelli e gli ornamini, questo è il senso filosofico greco. E i padri di Nicea tendranno questa operazione. io rimarrò nella cittadella della storia, ma qualche blitz me lo consentirete anche nel campo della dottrina o della storia della teologia. E in anticipo vi dirò scusa, perché non sarò risaustivo e chiaro, come mi piace essere, per il fatto stesso che questa operazione fu difficilissima e anche per il fatto che la Chiesa stessa che vi invita a pronunciare queste formule vi avverte con grande onestà che hanno il carattere del mistero. Quarto secolo dopo Cristo, dunque, svolta politica, i due segmenti della Chiesa, storia della Chiesa e storia dell'impero romano, si conungono nella figura carismatica dell'imperatore Costantino. Quarto secolo dopo Cristo, trionfo della ellenizzazione del pensiero cristiano. Il grande problema di tutta l'età romana imperiale che diventa più cogente e più impegnativo man mano che ci avviciniamo al quarto secolo è riassunto in quella domanda che un prefetto della provincia di Giudea fece al reputato Yeshua nel corso del suo processo. Chi sei? Questa è una frase dopo il Nuovo Testamento. Pilato aveva l'umiltà di formulare questa domanda, ma quanti teologi oggi mi sarebbero rispondere in modo esaustivo? E così, nelle comunità cristiane dei primi tre secoli, a questa domanda furono fornite risposte diverse, anzi diversissime. Gli storici del pensiero teologico, fino a poco tempo fa, guardando le cose dall'alto in basso, è quasi con quel piacere che avevamo quando eravamo ragazzi, mi ricordate, almeno la mia generazione si usava così. Il maestro indicava la lavagna e poi con un gessetto tracciava una linea verticale. C'era la B e il B e il C e il C. Ricordo, a me è capitato solo uno o due volte, in cinque anni, la gratificazione di avere quel gessetto imbano e giudicare il buone e il G. Anche gli storici a volte cadono in questa tentazione e abbiamo la cosiddetta manipolazione ideologica e abbiamo il cosiddetto problema attualissimo e discussissimo dell'egemonia culturale. Ma cerchiamo di stare lontani da questi piedi e quindi non parliamo della pluralità delle dottrine del cristianissimo antico come delle eresie tur, perché così è stato fatto. ma anche in una qualsiasi classe, un maestro fondentato, trenta richiede, un mimo lo ricevesse in maniera diversa. Quindi diamo per attenuare. C'erano varie interpretazioni della persona di Gesù. C'era per esempio il gruppo dei cosiddetti museo cristiani. Avevano accettato Gesù come Messia, ma rimanevano nei rituali e nei precedenti del cosiddetto testamento antico. E questi giudeo cristiani ritenevano Gesù uno dei problemi, magari più alto, di tutta la storia del popolo di Israele. Guardate che questa concezione, questa cristologia non è scomparsa ma costituisce la cristologia di maggioranza oggi al mondo. Perché, e qui ci vorrebbe un'altra conferenza, dal giudeo cristianissimo confluisce poi nella predicazione di Maumento VII secolo dopo questo. Gesù, la cristologia del Corano, è derivata, tu pur, e lo dico con grande rispetto e anche con una filigrana d'affetto con gli amici musulmani, è derivata dal giudeo cristianissimo. Gesù, profeta, alto e nobile quando si vuole, ma comunque profeta. C'era poi un'altra maniera di vedere Cristo, che già fa capovino nella prima pagina del Vangelo di Giovanni, quando il Nazareno viene presentato come lovos, lovos o latino verbum, parola filosoficamente immediativa, perché indica la ragione con la quale Dio ha creato l'universo, che i greci si chiamavano cosmo, che significa ordine, quindi se un qualcosa ha un ordine, deve esserci un ordinatore, il quale aveva una razza. Quindi questo lovos da che significava razionalità viene personalità. Perché il pensiero degli ebrei è molto diverso dal principio dei greci. Greci amavano definire pagine di filosofia. Il pensiero di Giovanni è molto più concreto. Gesù non ha parlato per dottrine astratte, ha parlato per parabole. E l'ottanta per cento del tempo suo non ha trascorso a spiegare cosa è la metafisica. Non ha trascorso guarendo chi soffriva. E allora che cosa voglio dire? Che nel pensiero giudaico, meglio giudaico, lovos viene personificato e diventa un'entità che fa da ponte tra Dio e l'umanità. Giovanni recepisce questa sfida, grande sfida filosofica, e ai suoi lettori di lingua greca, perché il che Giovanni ha scritto in te lo rappresenta questo come il rosso. Un altro ramo delle cristianità antiche, fedele al monoteismo di matrice giudaica, presentava Gesù come un modo di Dio di presentarsi con l'umanità. Un solo Dio che si manifesta in tre mani è diversa. Ma così arriviamo al modalismo e i suoi avversari lo chiamavano, altra parola difficile, patri, passiamissimo. Che voleva dire? Se voi credete che Gesù è una maniera di manifestarsi di Dio, allora Dio ha sofferto sulla croce. E ci troviamo di fronte a un musilis, difficilmente, difficilmente risolvibile. Ora, nell'iniziativa dell'imperatore Costantino confluisce anche un'attenzione politica. Perché si chiama ecumenico questo principio? Oggi il termine ecumenico è molto usato, etica e dialogo tra le varie confessioni cristiane, adesso addirittura il dialogo tra le varie religioni, però filologicamente il termine ecumenico nei testi dell'epoca sta a indicare di competenza dell'imperatore romano. Perché l'imperatore romano aveva un dominio ecumenico, si diceva, cioè che spaziava su tutto il mondo. Erano un po' orgogliosi questi imperatori romani, ma noi lo comprendiamo, i politici, perché almeno si orgoglivano di grandi realizzazioni. L'imperatore Claudio fece venire a Roma il diventisette acquedotti, non fontanella. Adesso quando si riguasta una fontanella a Roma, bisogna ascoltare le calente greche. L'imperatore Claudio costruiva il diventisette acquedotti, un po' di orgoglio solo meritava Costantino da imperatore dell'universo mondo, convocava il sinodo dei Vescovi. Le riunioni dei Vescovi prima di Costantino si chiamavano sinodi. Il termine sinodo viene dal greco, o dos, strada, siu, insieme. Facciamo uno strada insieme per arrivare al mosto e per discutere di problemi dottrinali e organizzativi. Oh, guardate che questi sinodi della Chiesa non è che erano delle riunioni di gentilumini che si sono presi anche ammazzati. Perché la Chiesa è sì una promanazione di qualcosa di altissimo, ma sta promanazione poi si scontra con la natura umana di noi altri. Quindi precedentemente ci sono stati i vari sinodi. Costantino dice questo sinodo non lo convoca il Vescovo, lo convoco io. E tutti i primi serpi, concilie, e come ci dici, sono convocati dal Vescovo, dall'imperatore. Tant'è vero che l'imperatore si presentò, non lo dico io ma lo dice il serpio di Cesaria, come Trisca e Deca Stos Apostolos, il tredicesimo apostolo, e si presentò anche come Vescovo Stornet Dos, cioè come Vescovo di coloro che sono alti fuori dalla Chiesa. Lui aveva fatto una mediazione culturale perché, per il provvedimento degli imperatori Augusti, l'anno 27 avanti Cristo, ogni imperatore era anche Pontifex Maximus, cioè capo dei cunni e della religione romana. Non badate al fatto che poi il Papa gli ha scippato il titolo, ma nel medioevo avveniva questo ed altro. L'imperatore Costantino è Pontifex Maximus e tradotto il lessimo cristiano è il Vescovo, cioè il sordegnante, anche per le religioni che sono al di fuori del cristiano. Quindi convoca il concilio ecumenico. Ad essere sincero, quando Costantino va a potere non per conto di voti delle elezioni, ma ci va a potere con la forza della spada, è un soldataccio. La prima grande fatica la fa con Massenzio a Roma quando fa precipitare e ritevere le truppe del suo rivale e, dopo aver vinto, non si rega neanche a sacrificare il tempio di Giove Castolino, come era costume di tutti gli imperatori vincitori. Lui già, secondo il servio, aveva avuto la visione della croce, ma in ogni caso aveva naturato una traduzione del culto sonare a cui era affezionato prima nel monoteismo cristiano, perché il secondo passo da compiere era la sconfitta di Micinio in quella oriente che era abitato in massima parte dei cristiani. Quindi bisognava procacciarsi in favore dei cristiani d'Oriente e il Costolino diventa quindi fautore della Chiesa. Il senato romano, che era allora pagano, è un po' abbarazzato perché non si è presentato a sacrificare nel tempio di Giove Giove Castolino. Le fortune di Roma non sono state sempre legate al culto degli olimpici, non sono state sempre loro, come dicevo Razio, i protettori dell'Imperio Romano, a darci forze e vigore. E allora fecero incidere quella epitola che noi leggiamo sul arco di Costantino a Roma dove si dice che l'Imperatore vinse, e in questa formula c'è tutto il gramma filosofico e teologico del Quattro Signore, Costantino vinse, instinctu divinitatis, per ispirazione del divino. quale sia questo divino, ognuno poteva esserci quello che voleva. In una sede di Geseria, in sintonia con l'Altanzio, ci lesse Cristo e la croce che comparve. I senatori di Roma, a ogni loro articolari, nostalgici e rituali ambiti ci avranno letto la firma di Giove, Giove, Miove e Mitra, ai protettrici dell'Impero Romano, a cui fosse iniziati al mistero di Mitra o di Cipetra, e ci avranno letto il dono dell'Altanzio dell'Altanzio piccoloica. Il gran religioso del IV secolo d.C. di dare un volto con connotabili e con i giorni precisi alla divinità. E questo fu anche il gramma dei poveri, lo dico con gran sentimento di simpatia, pari, conciliari, che si trovarono a sbogliare questa matassa. Costantino li invitò e volle addirittura offrire l'oro, perché venivano da tutte le parti del mondo, il più comodo e il più celere di tutti i mezzi. Dovete sapere che allora si viaggiavano naturalmente camparendo sui cavalli e c'era un bussus ordinario, dove il povero cavallo aveva fatto tanti chilometri, si stancava e si doveva fermare. Però c'erano le mansiones, cioè dei posti che corrispondono un po' alle nostre aree dell'istoro suolo strada, dove si cambiavano i cavalli e si mettevano i cavalli più freschi. E allora l'imperatore Costantino dicevi a valere di questa modalità di viaggio, a spese vie, perché io li ho convocati. E il grande storico del IV secolo d.C. Ammiano Marcellino, che osservava la realtà cristiana quasi come un pericolo che stava crescendo un po' troppo, dice non si capì più niente per chi viaggiava, perché tutti i posti erano occupati, centinaia di vescovi andavano e venivano e occupavano i vagoni, si riconoscono i migliori. E si riunirono questi pari nella grande aula costantiniana, nel palazzo reale di Rigomega, e Eusebio di Cesarea, con un ricordo nostalgico che probabilmente viecheggia il sentito dire di qualche perucanudo tra i convenuti, dice che nell'aula entrarono anche anziani vescovi che portarono nel corpo le ferite, che cosa dire, le stigmate della recentissima persecuzione di loro insieme a chi non aveva un occhio, chi insubicava, chi non aveva un braccio, e comunque dicendo sembrò che il regno di Dio fosse allora già cominciato in terra. frase meravigliosa, che però manifesta una tentazione che qualcuno potrebbe anche dire di a voi, e questo qualcuno, per me monaci, l'idea che la Chiesa sale sul trono, l'idea che dispone di un potere politico, l'idea che di lì a non molto un vescovo di Milano, Ambroggio, avrebbe potuto tirare per l'orecchio l'imperatore Graziano, giovanissimo, e dettagli l'agenda politica, è una idea che presenta anche degli svantaggi per un istituto carismatico e spirituale. Bisogna gestire bene l'agenda sociale delle Chiese, che non deve al mio modo svantaggio non essere mai agenda politica, ma agenda sociale. Scusate la parentesi, ma serve a far comprendere anche il dramma di quella Chiesa e dell'equilibrio della contemporaneità. C'è una differenza tra l'iniezione che somministra un medico e l'iniezione a un malato che somministra un missionario. E' una differenza tra l'iniezione. Magari la medicina è la stessa, magari l'iniezione monousa è la stessa. Il medico vede il paziente, il missionario vede il rischio sofferenza in quel paziente. Non è più il volito che gli sta davanti, ma sono le fattezze del rischio su paziente. Ecco, per capire la secolarizzazione della Chiesa, noi dobbiamo immaginare un medico cristiano che non vede più il volto di Cristo nei sofferenzi, ma svolge un lavoro politicamente corretto, quando ci va bene, spesso è politicamente conveniente. Chiuse a questa parete, se ricordiamo nel IV secolo dopo Cristo, anzi, facciamo un passo indietro, andiamo nel III secolo dopo Cristo. Prima vi dicevo che c'erano anche conflitti, non mi scandalizzate, perché le persone che si amano, prima o poi devono avere degli scherzi. Il più grande nemico dell'amore, anche dell'amore cristiano, è l'indifferenza. E quando un genitore dice, mia figlia che c'è a 13 anni, si è ritirata alle 4 di notte, ma io non dico niente perché sono un liberale, io lascio massima libertà. Amici cari, non gli credete, è soltanto un migrone che non vuole interrompere il sonno. Chiusa quest'altra parentesi, Dionigi d'Alessandria, grande vescovo dell'anno 250, l'ho visto, si ritirò con un nome, Modeodigi di Roma, e l'argomento era il seguente, la Trinità, come si concilia il monoteismo che abbiamo dedicato dagli ebrei con le numerosissime pagine che nel Nuovo Testamento definiscono questo, curios. Curios significa signore, ma questa parola non è quella che nella traduzione greca dell'Antico Testamento dedicava a Dio, allora Cristo è Dio e Giovanni dice che... Grazie a tutti!